Qui in FitLab crediamo che l'allenamento personalizzato, one to one o in piccoli gruppi, possa aiutare le persone comuni a migliorare la qualità della loro vita. Sono Amedo Brunetti, Personal Trainer e Cat Bell Specialist. La passione per l'attività fisica e lo studio e l'applicazione continuo mi hanno aiutato ad acquisire le competenze necessarie per portare le persone verso un cambiamento non solo fisico, ma anche mentale. La nostra missione in FitLab è quella di formare persone migliori, aiutandole a muoversi meglio, ad essere più veloci, più forti, più resistenti nelle loro attività quotidiane tutti i giorni. Questi ultimi mesi per me sono stati molto intensi per l'apertura del nostro centro. Insieme con Unix abbiamo trovato ciò di cui avevo bisogno per aiutare i miei clienti e quindi si è lavorato a stretto contatto con il loro team per rendere incredibile l'esperienza del cliente all'interno del nostro centro. Ognuno di noi ha bisogno di un mentore per riuscire dove non è mai riuscito prima e io ho scelto Unix per il mio progetto. Ora tocca a te se scegliere di rimanere nella tua condizione attuale o se diventare una persona nuova. Ti aspettiamo!